Si introducevano negli appartamenti di persone anziane con la scusa del controllo del corretto conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti e poi ne approfittavano per compiere furti di denaro, oggetti preziosi. Quattro persone di origine rom avrebbero compiuto 20 furti in abitazione in varie zone d'Italia, prendendo di mira soprattutto anziani con un ammontare totale di circa 200.000 euro. Sono stati arrestati a Teramo dai carabinieri della compagnia di Osimo sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Ancona per l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione pluri aggravati. Le indagini dell'operazione Senum Defensio sono state condotte dai carabinieri di Numana e coordinate dalla procura di Ancona. I colpi contestati sono stati messi a segno in varie province, delle Marche, Ancona, Scolipiceno, Fermo e Macerata, dell'Abruzzo, a Chieti e Teramo, del Molise, a Campobasso, dell'Emilia Romagna, a Ravenna e del Lazio, a Frosinone. Un sodalizio composto da quattro soggetti che spaziava in tutto il centro Italia e è riuscito a portare a termine, a colpire circa 20 abitazioni. Importanti consigli da parte dei carabinieri per gli anziani affinché evitino di subire furti in appartamento. Stare molto attenti nel ricevere persone che chiedono di intromettersi nelle abitazioni, che chiedono soldi e che per futili motivi cercano di penetrare all'interno dell'abitazione. Non devono assolutamente consentire ciò, ma devono essere molto attenti nel ricevere queste persone.